Amiche ed amici del grande volley, benvenuti alla terza puntata di Onda Rosa Nero, il format dedicato interamente alla Chioto Volalto Caserta, formazione militante della serie A2 femminile di volley. Anche questa sera abbiamo due ospiti importanti, un parterre d'onore come sempre. Partiamo dalla centrale della Chioto Volalto Caserta, Fabiola Facchinetti. Buonasera, buonasera a tutti. E l'assistente del head coach Nino Gagliardi, ovvero Giancarlo Chirichella, ben arrivati. Allora, grazie per essere con noi, li abbiamo strappati proprio all'allenamento, faremo una bella chiacchierata. Prima però andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo turno, giocato dalla Chioto, quello di domenica scorsa, vinto dalle Rosa Nero per 3-1 contro Palmi. Riecco la Chioto. La formazione Rosa Nero batte la Golem Palmi, conquista 3 punti e tiene a debita distanza le zone calde della classifica. Partita molto bella e combattuta che ha saputo divertire i tanti appassionati che hanno affollato le tribune del Palasport di Via Medaglie d'Oro. Pronti via e la Chioto scatta sul 3-1. Il sestetto di Draganov non è molto alto, così le casertane hanno gioco facile sotto rete e trovano ottime risposte anche dal servizio. Per San Aguizzi importanti e così al time out tecnico, le Rosa Nero sono avanti di 6-12-6. La Chioto sale fino al 20-11, poi le Calabresi mostrano concreti segnali di ripresa. Gagliardi chiama sospensione, la Chioto si ritrova, Lotti griffa il set point, Facchinetti fa ace, il parziale 25-19. Si ricomincia da dove si era concluso il set precedente, ace della Facchinetti. Il tema tattico della sfida non cambia, Caserta è palesemente superiore da un punto di vista fisico. Speranza è il terminale offensivo più pericoloso della Golem, anche se ottime notizie arrivano dalla Guidi. Casillo e Arelic griffano nuovamente il più 3 per le campane sul 15-12. Draganov attinge alla sua panchina, Aricò sale di intensità, Caserta rallenta e Palmi impatta sul 19 pari. Ora la Golem ci crede, la Chioto spreca e così arriva sul 21-23 per le Calabresi. Due errori in attacco di Caserta con segno nel parziale ed una Coriacia Golem, 21-25. Rivitalizzata dalla vittoria del precedente parziale, la formazione ospite comincia a baldanzosa anche il terzo set. A questo punto la Chioto si desta, time out tecnico, rosa nero, che conservano il loro vantaggio. Due muri vincenti di Facchinetti danno il più 2, 22-20, che poi si costruiscono un doppio set point, 24-22. Palmi li annulla entrambi e va a costruirsi il suo dei set point, 25-26. La partita è emozionante, la Chioto non trema, recupera e va a chiudere, 28-26. Nel quarto la partenza di Caserta è imperiosa. Facchinetti e Casillo fanno la differenza sotto rete. Arelic continua a colpire con regolarità. La Volalto scappa sul 12-5. Stavolta le Rosa Nero non rallentano, giocano bene i cambi palla e per la Golem diventa un problema risalire. La difesa delle Rosa Nero non cede di un millimetro, al centro continuano ad arrivare ottime notizie. La chiude Casillo, 25-17. Rientriamo in studio e abbiamo una speaker d'eccezione, Fabiola Facchinetti, che ci leggerà i risultati e la classifica dell'ultimo turno. Prego Fabiola. Con accento milanese, al pendi non vale. Nell'ultimo turno, Ben Grovigo è stata battuta da Forlì 3-0. Sagellati in Monza ha vinto a Olbi a 3-2 nell'anticipo di sabato. Soverato ha vinto 3-0 con Trento. Chieri ha vinto 3-1 su Aversa, nostro prossimo avversario. Filottrano ha vinto 3-0 con Cisterna. Settimo Torinese è stato battuto in casa da Pesaro. Chiotto Caserta ha vinto 3-1 con Palmi. Andiamo a vedere anche la classifica. La classifica vede in testa Valle 2002 Forlì a 42 punti, Soverato segue con 40 punti, Sagellati in Monza 37, Lardini-Filottrano 31 insieme ad Olbi ha sempre 31 punti, successivamente Pesaro a 27, Trento con 26 punti insieme a Chieri, poi Chiotto Caserta a 25, Palmi a 20 punti, Clendia Versa a 18 e infine troviamo Settimo Torinese con 14 punti, Bengro Vigo 12 e Cisterna con 8 punti. Perfetto, grazie a Fabiola Facchinetti, a un futuro sicuramente Giancarlo come speaker televisiva. Andiamo al commento della vittoria contro Palmi, una vittoria in realtà ma in discussione, anche se però tanti vostri errori punto hanno tenuto in vita nel corso della contesa Palmi. Cosa è successo? Troppo nervose voi? O comunque insomma ci può stare magari dopo due sconfitte in un momento un po' di sbandamento da parte vostra? Sì, sicuramente due sconfitte con due avversari molto forti, quindi con Forlì e prima con Monza. Dovevano farci ritrovare insomma un po' di certezze e un po' di fluidità nel nostro gioco e secondo me nella partita di domenica c'è stato, a parte appunto qualche errorino che ha mantenuto le avversarie comunque sempre nella partita. Sicuramente alcune cose da migliorare però credo che tutto sommato è stata una bella prestazione di gruppo dove tutte le giocatrici si sono messe in mostra e hanno risposto presente. Ecco coach, in questa partita quello che si è visto era palese anche in sede di Telecronaca il dominio al centro da parte della Chiodo, insomma Facchinetti e Casillo veramente hanno fatto quello che volevano sotto rete, salvo dei momenti in cui il muro calabrese ci ha un po' dato fastidio ma nel complesso la partita forse è stata decisa al centro? Sì, il lavoro a muro, il lavoro al cambio palla anche grazie ad una continuità in fase di ricezione e quindi di costruzione dell'azione giocata al centro che ci ha consentito di lavorare bene sulle uscite dei nostri centrali e soprattutto anche il lavoro di muro che è stato fatto sugli attaccanti avversari e sulle loro uscite quindi comunque una partita preparata molto bene e Casillo e Facchinetti hanno interpretato a meglio quelli che sono stati i compiti che le erano stati assegnati Promossa Assolutamente Facchinetti promossa Nel corso della gara è stato anche utile modificare alcuni tipi di impostazioni che avevamo preventivato precedentemente quindi va sottolineata anche la disponibilità di queste due atlete a modificare in corso d'opera quello che è il loro operato e di riuscire a farlo quindi anche un tipo di palla diverso rispetto a quello che solitamente sono abituati ad attaccare Perfetto, sentiamo invece il commento alla vittoria da parte del tuo capo il tuo coach Nino Gagliardi, ascoltiamolo Coach Nino Gagliardi a commentare questi tre punti di Caserta contro Palmi un ritorno al successo, uno sconto diretto, punti che vanno doppio Sicuramente eravamo consapevoli di quanto importante fosse questa partita per noi alla luce della classifica, alla luce delle due sconfitte consecutive soprattutto della brutta prestazione offerta in quel di Forlì Credo che ancora una volta la squadra ha risposto presente prendendo tre punti importanti come al solito tre punti e questo negli scontri diretti al momento è ciò che ci fa più piacere perché tutto sommato abbiamo dimostrato che ad oggi gli scontri diretti sono stati sempre condotti da noi con difficoltà perché stasera abbiamo avuto di fronte un signor avversario che non ha regalato niente al quale probabilmente in alcuni momenti abbiamo concesso troppo in termini di errori gratuiti nel senso che se l'avversario fa punto perché passa esterno al muro fa l'ottimo colpo come ce ne sono stati benissimo ma troppo spesso abbiamo fatto errori dove l'avversario non ha toccato nemmeno la palla Ecco coach questo aspetto più volte nel corso di interviste lo abbiamo rimarcato oggi è andata bene però magari se in altre occasioni contro altri avversari potrebbero andare bene come è andata bene oggi Ma sì però oggi la posta in palio era davvero elevata quindi l'importante è aver trovato le risorse per poter gestire al meglio la partita nel momento decisivo del terzo set siamo stati abili nel non farci prendere quando dovevamo chiudere e invece siamo rimasti un attimino lì spaisati però ci siamo ripresi e abbiamo condotto il set dalla parte nostra Ultima battuta domenica prossima un altro scontro diretto contro Aversa una partita anche questa insomma in cui la posta in palio sarà molto molto alta La posta in palio sarà alta ma comunque sia è un derby quindi essendo un derby è una bella partita da giocare è una giornata di sport e soprattutto i derby veicolano un sacco di persone alla gara e quindi credo che sia bellissimo per noi ma anche per la squadra avversaria dimostrare quanto è importante sia fare sport e soprattutto imparare a fare sport perciò sono convinto che sarà una grandissima giornata di festa e poi speriamo ovviamente nella giornata di festa di festeggiare anche noi e rientriamo in studio ecco con Giancarlo Chirichella e Fabiola Facchinetti allora la classifica prima in maniera perfetta e impeccabile recitata da Fabiola ci vede come dire un punto dalla zona playoff e un bel più set insomma sulla zona retrocessione la prima parola è proibita non dobbiamo dirla però ecco insomma andando a guardare la classifica oggettivamente bisogna ancora guardarsi le spalle o comunque timidamente possiamo già cominciare a guardare un po' alla settima o sesta posizione domanda per per entrambi mi assumo io la responsabilità non ti preoccupare parlo io col presidente io sono dell'opinione che innanzitutto per noi ogni gara sia fondamentale per raggiungere quello che è l'obiettivo stagionale che è la permanenza della categoria che ha la priorità in assoluto rispetto ad ogni altro tipo di situazione è chiaro che la nostra squadra per come la penso io abbia ancora dei margini di miglioramento che sono da raggiungere ed è tanto migliorata soprattutto nel sistema di gioco questo avvalora ancora di più il lavoro delle ragazze e il lavoro di Coach Cagliardi poi è chiaro che nessuno deve porre limiti né alla provvidenza tra virgolette né a se stessi alle proprie ambizioni perché se ogni partita viene giocata con la continuità di cui noi siamo capaci è chiaro che possiamo anche raggiungere la quota salvezza magari prima magari in un modo più tranquillo magari più agevolmente e poi guardare in avanti perché dal punto di vista del gruppo nessuno ce lo vieta purché si sia fatto prima quello che è necessario per garantire la continuità al lavoro in una categoria di A2 quindi prima pensiamo a garantirci la permanenza in A2 e poi insomma è assolutamente prioritario rispetto ad altre situazioni anche perché ci sono molte altre squadre che hanno il nostro stesso obiettivo Palmi era una di queste e pur essendo stato lo stesso tipo di risultato rispetto alla gara di andata che comunque là è stata vinta per 3 a 1 è comunque stata una gara che ha avuto un registro di gioco completamente differente appunto come hai detto tu siamo stati noi a fare la partita certo perfetto Fabiola Sì secondo me non è proibita la parola playoff insomma io credo molto nelle potenzialità di questa squadra credo anche che sia un campionato leggermente strano se mi è concesso a dirlo perché comunque i risultati ogni domenica sono particolari e c'è un bel gruppone al centro della classifica che si distanzia di pochi punti l'una dall'altra quindi ogni domenica può cambiare la classifica può succedere qualunque cosa e bisogna vedere cosa arriva in fondo alla regular season per queste appunto minime differenze di punteggio quindi secondo me è giusto che noi miriamo ai playoff è ovvio l'obiettivo stagionale è comunque quello della salvezza però credo che questa squadra se riesce a esprimere il suo gioco in tutto e per tutto possa davvero ambire a qualcosina in più e incrociamolo dietro ma speriamo che sarà così prima di andare a vedere il prossimo turno ecco la presenza di Giancarlo qui chiaramente oltre come assistente ottimo assistente insieme a Francesco Russo che a quali gli mandiamo un affettuoso abbraccio ecco Giancarlo Chirichella è anche lead coach della formazione di Serie C della Chioto Volato Caserta oltre che dell'Under 18 giusto? ecco parliamo un po' di questo fenomeno di questo movimento insomma giovanile della Chioto che a livello provinciale per fortuna non abbiamo rivali ma un po' alla volta anche a livello regionale stiamo crescendo e poi insomma voglio dire in Serie C con una squadra con una media età verdissima insomma siamo lì in lotta qui possiamo dirlo per i pre-off e le promozioni in Serie B2 qui possiamo dirlo però sì qui possiamo dirlo anche se ripeto ci sono delle dinamiche di gestione del gruppo che non devono mettere pressione nessun tipo di pressione alle ragazze per avere la possibilità di poterci lavorare sempre a mente libera perché è fondamentale specie per la crescita di un gruppo giovanile tu mi hai anticipato su questa cosa il gruppo è molto giovane la ragazza più grande che abbiamo in rosa è il capitano Decato che ha 22 anni per il resto sono tutte quante Under 18 quindi tra Under 18 e Serie C parliamo praticamente dello stesso gruppo più per l'Under 18 alcuni innesti da delle società qui abbiamo preso alcune giocatrici che faranno parte del progetto Under 18 e le due palleggiatrici di questa squadra sono due ragazze di 15 anni che sono entrambe del 2000 16 anni sono entrambe del 2000 che quindi fanno anche parte delle squadre Under 16 della Kyoto per quel che riguarda il movimento giovanile è un settore che deve essere deve essere oggetto di una programmazione sarà oggetto di una programmazione di una progettazione che gli consenta di ampliarsi sempre di più e che ci consenta di avere alle spalle un vivaio che è l'obiettivo di ogni società dovrebbe essere l'obiettivo di ogni società che fa la Serie A un vivaio da cui poter attingere per poter creare delle giocatrici valide e per poter competere a livello nazionale anche con altre scuole pallabolistiche che sono molto più cioè che sono blasonate e che ci portano ci portano alla ribalta anche a livello nazionale in regione siamo una delle scuole di pallavolo diciamo che ha una maggior tradizione pallavolistica e che quindi ci tiene a continuare questa tradizione ad arrivare alla Final Four Under 18 che speriamo di poter magari organizzare di poter magari ospitare la Final Four regionale e di potersi confrontare quindi con le altre realtà pallavolistiche di livello quali possano essere anche la stessa Arzano che possa essere Ischia che ha un'ottima squadra Under 18 nella provincia di Napoli insomma per poter per poter arrivare a giocarci questa Final Four e magari acceder alle finali nazionali come obiettivo tecnico dell'Under 18 è l'augurio chiaramente che ci facciamo è l'augurio che ci facciamo sicuramente tre domande a bruciapelo per entrambi coach la partita che vorresti rigiocare in generale nella tua carriera la partita che vorrei rigiocare probabilmente è la finale di Supercoppa del Sand Volley del Sand Volley di Pescara magari anche con lo stesso risultato con lo stesso pathos e con la stessa adrenalina che abbiamo vissuto contro Forlì ti intrompo perché ricordiamo che Giancarlo Chirichella era anzi era sulla panchina in quel di Pescara che appunto quel pomeriggio che vide Caserta trionfare nella Supercoppa italiana di Sand Volley 4x4 il titolo nazionale vinto da questa società e Giancarlo fresco di nomina involato insomma subito brindato con un successo importante la partita invece tu non vorresti rigiocare la semifinale che non vorresti rigiocare la sconfitta più bruciante la sconfitta più bruciante è sicuramente la finale playoff di due anni fa quella persa con San Casciano in casa e giocavo a Monza e quella è stata la più bruciante di tutta la mia carriera penso perché avevamo il match point per la 1 e è stata è stata data una battuta fuori effettivamente dubbia nel senso che la palla poteva essere dentro o fuori rivedendo i video sembrava dentro e l'ho giocata contro tra l'altro Silvia Lotti che è una mia compagna di squadra ora e comunque quella è veramente la delusione più grande la partita che mi sono sognata di notte per tutta l'estate e che vorrei da una parte rigiocare e dall'altra per come è andata a finire appunto cancellarla per sempre va detto che Fabiola Facchinetti è un'ottima giocatrice di pallavolo ottima centrale chi ti chiede la può confermare ma è anche un'ottima cronista di viaggi cura un blog come si chiama il blog che curi? il mio blog si chiama Volley on Holiday su Wordpress e appunto è nuovo l'ho appena creato perché volevo condividere diciamo la mia esperienza di viaggio con un diario di viaggio che ho fatto quest'estate in Africa più precisamente in Namibia e la mia idea la mia speranza è insomma quella che tutti i pallavolisti o le persone nel mondo della pallavolo possano condividere su questo blog la loro esperienza di viaggio in modo tale da fare diciamo un raccoglitore di esperienze diverse in giro per il mondo da parte appunto di tutti i pallavolisti o gente nel mondo del volley io questo diario ho avuto il piacere di leggerlo e vi assicuro che ci sono delle foto meravigliose il racconto è bellissimo da brividi e farei proprio la voglia di farlo quindi ve lo consiglio andate a visitare insomma il blog ripetiamo come Volley on Holiday tra l'altro è stato anche pubblicato sia sul sito ufficiale della Lega Volley quindi si può trovare anche lì che su alcuni quotidiani online di Caserta trovi anche poi l'eco di Caserta e prossimamente anche su Sport Casertano quindi andate a dargli un'occhiata che veramente ne vale la pena è molto bello grazie grazie mille e poi dopo mi paghi per questo no scherzo no è veramente bello molto molto bello andiamo a leggere adesso il prossimo turno così andiamo poi verso le conclusioni prossimo turno Forlì ospita Filottrano Pesaro ospita Monza Trento contro Chieri Olbia contro Rovigo Aversa ospita noi Chioto Caserta a settimo torinese andrà Soverato e Palmi Cisterna insomma altre partite interessanti dal pronostico incerto andiamo a commentare la nostra di partita il derby Caserta Aversa una partita molto sentita sportivamente parlando ecco Fabiola come vi state preparando a questo match e che tipo di di gara ti aspetti se stanno mandando anche per te coach sicuramente è un derby quindi c'è sempre quel pizzico di agonismo adrenalina in più perché ogni derby anche se questa non è magari la mia regione di appartenenza però è sempre sentito e siamo concentrate al massimo veniamo da appunto una bella vittoria contro Palmi e soprattutto ci aspettiamo che inizi una settimana molto intensa e positiva per noi perché poi ci aspetta anche il turno infrasettimanale di mercoledì contro Pesaro e poi la trasferta a Olbia quindi diciamo un periodo che è diciamo quello di un mese intero dove noi dobbiamo cercare di prendere più punti possibili e siamo davvero motivati e concentrati a farlo perché da qui si vedrà insomma cosa riusciremo a fare di questa stagione coach stiamo lavorando work in progress work in progress sì è una partita che è bella da giocare a prescindere da qualsiasi tipo di di situazione qualsiasi tipo di commento perché ha il suo fascino e anche a prescindere da quella che è poi la posizione di classifica siamo due squadre diverse rispetto a quelle dell'andata affrontiamo una squadra che sappiamo avere parecchie frecce al suo arco da poter utilizzare alla quale dobbiamo comunque fare parecchia attenzione sarà una partita comunque io penso diversa perché comunque è giocata su un campo non facile per nessuno e speriamo di poter ripetere l'ideale sarebbe ripetere magari la stessa prestazione dell'andata che comunque è stata una partita fu una partita impeccabile da ogni punto di vista poi è chiaro che la giocheremo con la stessa con la stessa voglia con la stessa grinta e soprattutto come ha detto Fabiola anche per iniziare a dare un'impronta un'identità alla nostra la nostra stagione e provare a fare qualche cosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto prima essere l'obiettivo stagionale Caserta e Aversta due città vicinissime due città che hanno prodotto due squadre in Serie A quindi comunque è una fase fatta ma di fatto è la verità due squadre in Serie A è comunque un banto per la nostra provincia a prescindere dall'appartenenza del cuore tra l'altro Fabiola eri a Monza sino a qualche mese fa voglio dire non è semplicissimo mantenere una squadra in Serie A tu vieni da una realtà importantissima appunto quale è Monza quindi passando dalla Saugella alla Chioto qualche differenza la si è vista quindi puoi ben capire i sacrifici che si ha quindi l'importanza di riuscire ad avere due squadre in Serie A due città molto piccole insomma alla fine Certo io ho comunque avuto la fortuna di stare a Monza per quattro anni e ho visto anche come si è evoluta la situazione e come è cresciuto anno dopo anno anche la realtà di Monza che fino a qualche anno fa comunque era molto più piccola di quella che è adesso e vedo lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di crescere di questa società della Chioto Caserta non conosco la realtà di Aversa ma comunque sono penso appunto sono due realtà che sono importantissime su questo territorio comunque due società di A2 così vicine è sicuramente un vanto per la provincia e sono sicura che cresceranno anno dopo anno io spero la Chioto che cresca davvero come sta già dimostrando di saper fare anche durante questa stessa stagione sportiva e magari l'ultimo punto non domenica magari l'ultimo punto di questi playoff fantomatici lo metterà Facchinetti stavolta la palla finirà un millimetro al di là della rete così sarà una partita che ricorderai per sempre lo spero proprio ecco siamo veramente in in chiusura ringraziamo ovviamente Fabiola Facchinetti per la simpatia e per la disponibilità che ci ha dato questa sera e se con noi l'abbiamo strappata proprio al video importante di preparazione alla partita grazie Fabiola grazie a voi buonasera e anche al tattico di coach Nino Cagliardi non so se è sintattico insomma all'assistente di coach Nino Cagliardi Giancarlo grazie a voi e ringraziamo chiaramente chi lavora al di là delle telecamere ovvero mister Armando Serpe e mister Mario Scalino grazie grazie a voi onda rosa nera ritorna la settimana prossima e chiaramente con nuovi ospiti ma sempre parlando della grande Kyoto Volato Caserta alla prossima grazie a voi